In questo tutorial vediamo come poter trisecare un angolo acuto utilizzando la concoide di Nicomede. Nel video, nella prima parte, vedremo come poter costruire la concoide relativa a questo angolo. Nella seconda parte vediamo come poter trisecare l'angolo ed infine ne diamo una dimostrazione. Come prima cosa iniziamo a costruire la concoide relativa all'angolo A, O, B. Per far questo sul lato B consideriamo un punto L e a partire da L tracciamo la perpendicolare R al lato OA. Indichiamo con D la sua intersezione con OA. Prendo poi un punto P libero di muoversi su R e tale punto genererà la concoide di Nicomede. Andiamo a costruire la concoide e per far questo tracciamo la retta che passa per O e per P e poi con centro in P tracciamo la circonferenza di raggio 2OL che poniamo uguale a K. Di conseguenza OL, e questo ci sarà utile nel proseguio del video, sarà pari a K mezzi. Indico poi con Q1 e Q2 le intersezioni della circonferenza con la retta. Al variare di P, Q1 e Q2 genereranno il luogo desiderato. Sfruttiamo questo luogo geometrico per trisecare l'angolo AOB. Per far questo vado a tracciare la retta che passa per L parallela al segmento A. F, G e C sono le intersezioni di questa retta con la concoide. Unisco poi O con C e indico con N l'intersezione di questo segmento con la retta R. L'angolo AOC risulterà essere la terza parte dell'angolo AOB. In questo caso l'angolo AOB misura 60 gradi, l'angolo AOC misura 20 gradi. Dimostriamo ora che effettivamente l'angolo AOC risulta essere la terza parte di AOB. Iniziamo la dimostrazione. Come prima cosa rimetto in evidenza il punto P che si muove su R. PQ1 risulta essere il raggio della circonferenza che è pari a K. Quando P coincide con N, Q1 coinciderà con C e allora sappiamo anche che NC è pari a K. Fisso ora l'attenzione sul triangolo di vertici NLC. Questo triangolo è un triangolo rettangolo e l'ipotenusa NC misura K. Indico con M il punto medio di NC e traccio la mediana LM. Per il teorema della mediana relativa all'ipotenusa la mediana LM risulta essere pari alla metà dell'ipotenusa stessa. Visto che l'ipotenusa misurava K, LM misurerà K mezzi. Visto che M è il punto medio dell'ipotenusa NC, allora NM risulta essere congruente ad MC ed entrambi questi segmenti misureranno K mezzi. Inoltre anche OL misura K mezzi. Lo avevamo visto all'inizio quando abbiamo costruito la concoide. Ricordiamo che il raggio della circonferenza era pari proprio a due volte OL e il raggio lo avevamo indicato con K. Di conseguenza OL è pari a K mezzi. Fisso ora l'attenzione sul triangolo OML. Visto che OL è congruente ad LM, questo triangolo risulta essere un triangolo isoscele e allora ha gli angoli alla base congruenti. Fisso ora l'attenzione sul triangolo di vertici LCM. Questo triangolo risulta essere anch'esso un triangolo isoscele. LM per costruzione è congruente ad MC e allora gli angoli alla base sono tra di loro congruenti. Ora, per il teorema dell'angolo esterno, l'angolo LMO risulta essere uguale alla somma degli angoli interni ad esso non congruenti, ossia questo angolo risulta essere congruente alla somma di questo angolo con questo angolo. Ma visto che i due angoli sono tra di loro congruenti, possiamo scrivere che LMO, ossia questo angolo, è uguale a due volte LMC, ossia questo angolo. Fisso ora l'attenzione sull'angolo LCO e sull'angolo AOC. Questi due angoli sono angoli alterni interni e quindi congruenti tra di loro. Torniamo all'angolo di partenza AOB. Questo angolo lo possiamo esprimere come la somma di questi due angoli, ossia AOC più COB. Tenendo presente che questo angolo è il doppio di questo angolo e questo angolo è congruente a questo angolo, possiamo scrivere che l'angolo AOB è uguale all'angolo AOC, ossia questo angolo, più due volte l'angolo AOC e complessivamente abbiamo tre volte AOC, ossia l'angolo AOB è il triplo dell'angolo AOC. In altre parole, questo angolo risulta essere la terza parte dell'angolo acuto di partenza. In questo modo siamo riusciti a trisecare l'angolo. E con questo termino il tutorial su come poter trisecare un angolo acuto utilizzando la concoide di Nicomede.